Bentornato Goodler, ciao da Carlo. In questa lezione iniziamo a parlare di uno dei componenti più importanti del computer, l'hard disk o disco rigido. Dopo esserci lasciati alle spalle la descrizione di alcuni lettori, proseguiamo con la trattazione di altri componenti interni. Ricorderai, nella volta scorsa, che abbiamo descritto per grandi linee il floppy disk, floppy disk che è ormai un mezzo vedusto all'interno dei pc. Qualche anno fa venivano utilizzati come supporto di memorizzazione, che allora erano abbastanza veloci, visto che eravamo all'inizio della tecnologia per cui riguarda il progettire dei computer. Oggigiorno però sono praticamente inutilizzati. A un order vero comunque c'è da dire che qualche smanettore ancora è in grado di far vivere e lavorare egregiamente questi aggeggi, sfruttando proprio alcune peculiarità che vengono utilizzate per avviare un computer bloccato oppure eseguire una diagnostica per risolvere dei problemi software degli stessi. Nella parte interna del computer, proprio sotto l'alloggiamento del floppy, è inserito un componente definito come disco rigido, in inglese hard disk con la sigla HD o più correttamente hard drive. Qui in figura è riportato un tipico hard disk nella fattispecie con interfaccia asata. L'hard disk è un componente elettronico e meccanico al cui interno è presente una circuiteria elettronica in grado di far funzionare gli stessi e dei supporti meccanici con un numero variabile di dischi metallici. Questi dischi sono impilati l'un l'altro e ad una distanza molto ravvicinata e grazie a un pennino è possibile leggere i dati memorizzati sugli stessi. Gli hard disk attualmente presenti in commercio raggiungono velocità di circa 7200 giri al minuto, quindi molto elevati. Sui vari dischi è possibile memorizzare, quindi leggere o cancellare, i dati in maniera illimitata. Ti potrà sembrare un'utopia la parola illimitata perché di fatto l'unico limite di memorizzazione è la durata di funzionamento dell'hard disk stesso. Qualora la parte meccanica si danneggiasse, che tra l'altro è la parte più critica, ci potrebbero essere ancora dei margini di recupero dei dati presenti sui dischi. Molti programmi, alcuni gratuiti ed altri a pagamento, sono in grado di poter recuperare, quindi metterti in grado di recuperare autonomamente i dati presenti sull'hard disk a causa di cancellazioni involontarie o rotture non gravi. Nei casi estremi, in cui ci dovesse essere una rottura abbastanza importante, dovresti rivolgerti a ditte esterne specializzate, ma dato che saranno necessari strumenti particolari, condizioni ambientali ben definite per recuperare gli stessi, qualora ti dovesse capitare una sventura del genere con dati vitali, saresti costretto a dover pagare centinaia di euro per recuperare questi dati importanti su un hard disk danneggiato. Come potresti proteggerti a riguardo? In una parola ripetuta più volte diciamo subito che dovresti effettuare un backup, backup e ancora backup. Cosa significa? In poche parole copiare diverse volte sfruttando diversi soluzioni, quindi diversi supporti, tutti i tuoi dati che sono dannatamente importanti, che ti potrebbero non solo dispiacere se li dovessi perdere, ma addirittura piangere o farsi male in caso di perdita. Quindi dovrai copiare magari su DVD, hard disk esterni, pennetto USB o memorie di vario genere, fin raggiungere anche gli hard disk virtuali. Non sai cosa significa? Non ti preoccupare, con il tempo conosceremo anche queste cose. Anche se le attuali capacità di memorizzazione dei dischi rigidi hanno raggiunto valori stratosferici, e penso che oggi giorno si parla di termini di terabyte, quindi impensabile fino a qualche anno fa, è comunque già iniziato il declino degli hard disk meccanici, a favore degli hard disk statici, è stato solito. Come abbiamo già detto, l'unico limite al divulgarsi rapido di questi è l'elevato costo degli hard disk statici. Ti chiederai, ma cosa è possibile memorizzare sugli hard disk? In sintesi, qualsiasi dato in formato digitale, ossia foto, video, documenti, musica, libri, intera enciclopedia, email, programmi, sistemi operativi, eccetera. Sarete tu e il computer che utilizzerete questo supporto ed altri tipi di supporto per memorizzare i dati necessari al tuo scopo e al suo lavoro. Ogni dato informatico a sua volta potrà essere in formato diverso in base alle aziende che l'hanno creato o comunque definito. Ad esempio, per cui riguarda i sistemi operativi, oggigiorno le aziende più conosciute sono la Microsoft, Linux, Apple e Google che hanno creato o stanno creando sistemi operativi proprietari, alcuni liberi e altri a pagamento. Il sistema operativo permette di gestire la macchina per raggiungere gli scopi dell'utente. In estrema sintesi, il sistema operativo è costituito da una sequenza di istruzioni che comandano l'audio del pc al fine di realizzare i tuoi scopi. In un computer possono essere installati più sistemi operativi, sia della stessa azienda, quindi con versioni ritondanti, o anche per aziende diverse con alcune eccezioni. Abbiamo detto che i dati possono avere formato diverso gli uni dagli altri, ma che significa? I dati audio, ad esempio, hanno un formato riconoscibile dall'estensione del nome stesso. L'estensione è l'insieme di caratteri alfanumerici che seguono il nome stesso subito dopo il punto. Avremo ad esempio l'ormai diffusissimo .mp3 o .web e così via per i formati audio, invece per i formati video il Blu-ray, DVD, .mkv, .mpeg, .mp4 e così via. Senza essere prolisso, quindi a riguardo, sintetizziamo dicendo che ogni file digitale è dotato di un'estensione che ne caratterizza la tipologia e magari anche a volte l'azienda che l'ha prodotto o il programma che è in grado di gestire lo stesso. Per poter aprire, quindi leggere, un file di una determinata estensione è necessario un programma predefinito che o l'ha generato, quindi l'ha creato, o è in grado di aprirlo e gestirlo. Avrai quindi compreso quanto è vitale un supporto di memorizzazione come l'hard disk. Dal punto di vista dell'utente, se vogliamo, è la parte più importante del computer, proprio perché memorizza i dati personali. Immagina infatti di non avere la possibilità di memorizzare i dati importanti nell'utilizzo di un computer. Cerchiamo di farlo capire con un esempio della realtà quotidiana. Immagina se sul tuo telefonino tu non avessi la possibilità di memorizzare i dati dei tuoi contatti. Se hai un'età relativamente importante, ti ricorderai i vecchi telefoni a tassiero a un Q più vecchi, quelli a disco rodante, che ti permettevano di telefonare una persona rodando in sequenza la serie di numeri da 0 a 9 per comporre lo stesso. Cosa dire per cui riguarda i numeri di telefono, quindi i contatti? Che avevi due possibilità, o memorizzare tutto all'interno della tua testa, o avere una rubrica telefonica cartacea, quindi da scrivere nome, cognome, magari indirizzo e il numero di telefono dello stesso. Immagina se dovessi avere un centinaio o qualche migliaio di contatti, cose pazzesche. Oggigiorno cosa accade? Tutto questo in una rubrica telefonica, digitale, ossia un qualsiasi supporto di memorizzazione. Ora, quanti dati possiamo memorizzare sugli hard disk? Beh, dipende dalle dimensioni. Passami la battuta, senza sfociare nell'erodismo, diciamo che la struttura esterna dell'hard disk ormai ha raggiunto uno standard di dimensioni più o meno consolidato, ma la capacità di memorizzazione dei dischi interni alla stessa è stata implementata notevolmente nel corso di questi anni. Circa 15 anni fa gli hard disk di un computer avevano una capacità di memorizzazione di pochi centinaia di megabyte. Possedere un hard disk di qualche gigabyte era un lusso, anche dal punto di vista economico. Oggigiorno si parla di terabyte. Una disk di 2 terabyte lo puoi acquistare all'incirca con un centinaio di euro. Beh, capisci la differenza di cosa stiamo parlando tra terabyte e megabyte? No, sei strano a questi numeri? Non ti preoccupare. Nella prossima lezione ci concederemo una lieve scivolata al di fuori dell'ambito di computer spiegando definitivamente alcune tipologie di dimensioni digitali in termini di kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Non mi resta adesso che salutarti e ringraziarti per l'asconto come sempre. Saluto forte, ciao a presto da Camila.